Musica Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers Io sono Salvatore E siamo qui ragazzi per la prima volta con una nuova serie Ovvero Viva Pignata Trouble in Paradise Per chi non lo conoscesse questo gioco è un gioco uscito nel 2008 per Xbox 360 in esclusiva Poi è uscito anche per PC più avanti E che cos'è? Praticamente è una, tra virgolette, una specie di Zotaicun solo con degli animali fatti di carta Animali di carta ovvero le Pignata Cosa sono le Pignata? Sono degli animali, cioè dei contenitori di caramelle fatti a forma appunto di animale Che si usano soprattutto nel Sud America a Natale come gioco per i bambini Dove devono prenderli con la mazza mentre sono bendati e spaccarle E quando li spaccano escono tutte le caramelle E chi spacca la Pignata vince tutte le caramelle Bene Vi subito andiamo a creare il nostro primo giardino Nuovo giardino Lo chiamiamo Come lo chiamiamo? Lo chiamiamo Giardino di Sasà e Gionano Lo chiamiamo Io di solito Quando giocai la prima volta lo chiamai Garden di Balamb Perché mi ricordava Final Fantasy Garden Di Balamb Versi strani arrivano da Ok nuovo giardino E quindi iniziamo proprio da zero Alziamo un po' la voce Ogni Pignata ha un cibo preferito Quando lo mangiano a un relativo indicatore di caramellosità si riempie più velocemente del normale E si parte dalla lontana Lontana Dalla lontana Pignatofoli Una bomba Questa filmata non è doppiata in italiano Adoro i fuochi d'artificio E so è il mio grande momento Tutto a scuote Ecco Questa è la fine che fanno sempre i cattivi Cosa stai aspettando? Entra e finisci il lavoro Ora siamo dentro Pignata Central Grazie a semplici tecniche di hacker possiamo rubare i file delle Pignata Presto conoscerò l'ubicazione e tutti i deboli di ogni Pignata Così potrò catturare tutti quegli animaletti di carta e diventare il re delle Pignata di tutto il mondo Presto scimmie incompetente ho delle Pignata da catturare Eliminare tutti i file Premi un pulsante qualsiasi per confermare Che cosa è successo? Ah cosa hai fatto? Oh no! Pignata Central è fuori uso finché non avremo ripristinati gli archivi Nel frattempo farai in modo che quelle Pignata non raggiungano nessuna festa La vittoria è mia! Ok questo era il professor Pester Si chiama Pester Ed eccoci qua con Lifos che sarà la nostra guida durante tutto il... La cura del giardino Abbiamo già una Sirupent Bene Vediamo un po' cosa ci dice Lifos Si inizia praticamente da dover catturare le prime Pignate Ho sentito dire che alcune Licta... Ah ok quindi si parte senza tutorial qua Bene dobbiamo praticamente... Prendiamo la pala E iniziare a fare qualcosa Messo l'acqua Dobbiamo aspettare che arrivano man mano le prime Pignate Ecco la prima e questa dovrebbe essere questa Non posso uscire fuori Ah perché c'è una palla Vediamo cosa ci vuole per catturare questa Avere tre papaveri in giardino Ne abbiamo solo due Adesso però è facile avere più papaveri Ne distruggiamo uno così Facciamo... Taglia il fiore Ok Ci dovrebbe dare semi Abbiamo un guirmi intanto abbiamo preso E non distruggerlo Prendilo e piantalo Piantiamolo Piantalo Piantalo Jafar No Quello è Aladin Ok Piantiamo i papaveri Quando crescono Quella pignata sarà nostra Bene Intanto abbiamo qua un guirmi Che già è nostro praticamente Perché ci vuole solo un po' di terra E la pignata è più strupida da prendere Arracchiamo Arracchiamo Le piante Le piante Ecco finché Non dobbiamo arracquarle troppo Eh Eh Perché se no Si Si spugna Come si può dire Quindi abbiamo adesso Questa è una Lictod Ha i due pignometti di acqua Ma ha mangiato una Tuffli Eh Vabbè ci vuole la Tuffli Finché non abbiamo la Tuffli Christopher mi diceva che lui già Ha Iniziato a giocare Quindi c'è già la torre amara Quindi adesso la disattiviamo Però Perché se no Non vengono le pignate amare Io ancora non le ho catturate Poi scoprirete più avanti Cosa sono queste pignate amare Allora Dicevamo La Lictod Non la possiamo prendere La Bispotti Tra poco dovrebbe Dovrebbe diventare nostra Avere almeno tre papaveri Stiamo aspettando Che crescano i papaveri Lo sai che i papaveri Sono alti 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 E tu sei picco Uh Questo è lo dragon Si oiono Tre pinometri quadrati Di acqua E ha mangiato Tre fiori di crescione Il crescione Ancora non ce l'abbiamo Quindi è inutile Pianta rinsecchita Attenzione Qual è questa? Arrappiamo Un po' questa Un altro po' questa Ecco questa qua Non l'avevamo arrappata Abbastanza Poi più avanti Si prendono potenziamenti Del Dell'annaffiatoio Della pala E quindi Tutto è più facile Allora Facciamo un po' d'acqua in più Che può servire Facciamo una specie di ruscelletto Vedi? Andando è entrata un'altra ranogna Però la ranogna Non la possiamo prendere Perché ci vuole la toughly E non ce l'abbiamo Ok Credo che adesso Abbiamo due pignome di dracco Per quella Allora Sono cresciuti i papaveri Adesso questa dovrebbe diventare nostra Infatti abbiamo tre papaveri Come entra nel giardino Diventa nostra Intanto vediamo anche questa Questa ha mangiato uno wyrmy Questa tra poco entra Perché il wyrmy ce l'abbiamo E quindi se lo mangia facilmente Il serpente ce l'abbiamo già Quindi Facciamolo uscire un po' Per fare una passeggiata Un altro wyrmy Bene Senti bella Quando vuoi entrare Oh una paparel La paparel Si chiama paparel Intanto questa si fa Bella danza E danza Vai danza un altro po' Vediamo cosa ci dice Fanny ha un'aria dolce e innocente Ma ho sentito dire Che apre le lettere d'amore Con il vapore E poi usa i testi Nel racconto romantico Che sta scrivendo Ah 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 Non si fa Non si fa Praticamente Il personaggio che lei ha nominato È La postina Perché si possono spedire Le pignata Tra i Oh 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 Una pignatina amara Per fare Allora Ha mangiato un seme di cespuglio di more Ha mangiato un seme di ravanello E non ci abbiamo né uno né l'altro Quindi Oppure ce l'abbiamo Vediamo Abbiamo già sbloccato tutto Giustamente Perché Crissaferra Già ci ha giocato Oppure ho già un sacco di soldi Eh cosa servono le monete di cioccolato Se non aspetta Allora il ravanello E il cespuglio di more Dove è un 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 cespuglio di more Ecco questo è il ravanello E lo mettiamo qua Senza piantarlo E poi ci se Ok Termina gli acquisti Ok Andiamo di nuovo al giardino Andiamo al villaggio Prendiamo di nuovo Ve l'ho detto Qualche cespuglio di more Ma se vive Non more A cosa servono le monete di cioccolato Se non a spenderle Se fossi te Le spenderai qui Dove hanno maggior valore Seme di mora Mi serve Mettiamolo proprio davanti a lei Così se lo magna E diventa No Si sta mangiando uno Bene Mangate anche l'altro Mangiate anche l'altro Mangiate un seme di cespuglio di more Ecco C'è la propria Ci sei seduta sopra Quindi magna Magna Si è nostro Ok fatto Ok Visti che abbiamo un po' di soldi Io direi di iniziare a piantare Un po' di piante In modo che così vengano Più Più animali Mi spendo tutti i soldi di Cristo Perché sei una fonte Mi è piaciuto giocare prima di noi Dunque c'è qualcun altro Che soffre di insonnia Da queste parti Oltre a me Piantiamo qualche ranuncolo Qua e là Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci fiorellini di questo E arrappiamoli Ok Arrappiamoli un po' Non troppo ovviamente Se no poi diventano troppo arrappati Intanto quella pignata amara È diventata nostra Sì Adesso ve la faccio vedere Come è diventata Ok Questa adesso è nostra Si chiama Shelly Bean Siccome vi ho fatto vedere Che cos'era la pignata amara Adesso ve lo spiego La pignata amara È Un animaletto Come quegli altri Che ci abbiamo Solo che è Con le caramelle amare All'interno È praticamente È cattiva Si ma Fa delle cose cattive Nel Nel giardino Quindi per evitare Che lei faccia cose cattive Bisogna trasformarle In una pignata normale E adesso Noi l'abbiamo trasformata In una pignata normale Appunto Dandogli Requisiti Oh oh Intanto abbiamo Una nuova pignata Che arriva Si chiama Raizond 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 È una specie Di ragnetto Chris Si sta cagando Già sotto È una formica Eccola Raizond Ok A me Mi sembrava più Un ragnetto Ma vabbè Allora 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 Vediamo un po' Adesso abbiamo La Bispotti Abbiamo il Wyrmie Abbiamo la Shelly Bean Vediamo un po' Questa tra poco Entra da noi Questa ci vuole La Tough Fly Per la Tough Fly Non mi ricordo Cosa ci vuole Mi sa che ci vuole La luce in giardino Quindi andiamo Dal mercante Eh ho preso il diario Ah ecco Giustamente Giusto Chissà fare mi dice Mi dice Che qua Possiamo vedere Come si prendono Le pignata Quelle là Che già si sono state Sbloccate Siccome Christopher Già ha giocato parecchio Allora Dove sta la Tough Fly Giustamente In ordine alfabetico Sarà nella lettera T Eccola qua Informazioni Requisiti di comparsa Avere due margherite In giardino E ha mangiato Una varietà di frutta In giardino Quindi dobbiamo mettere Dobbiamo mettere Le margherite Perché Margherita È vera Tanto qua Stanno crescendo Sti piantini Che è successo Ok Vi ho fatto vedere La Rai Sanno Vabbè così Alla caccia Andiamo qua Andiamo a comprare Le margherite Mettiamo anche un albero Da frutto Visto che ci troviamo E poi ci salutiamo Per questa puntata Adesso sapremo La prossima puntata Se prenderemo I ragni E la lana Margherita Semi di margherita Ma se è di margherita Perché lo sto usando io Come sono comico Ok Ne abbiamo messo un bel po' E prendiamo un albero Da frutta Semi di mora Semi di crescione Peperoncino rosso Aglio Nocciolo Nocciolo? Girasole Semi di zucca Di melo Prendiamo E piantiamo Il melo Piantiamo un albero Di mele Anzi due Facciamo Uno qua E uno qua E un altro qua Andiamo a piantare Lo so Io ho fatto Il mio Ok Uno Questi ci mettono Un po' più tempo Per crescere Volendo Si possono anche Usare i fertilizzanti Per Farsi Che crescano Con più frutti Cioè che fanno più frutti Però questo lo vedremo Alla prossima puntata Ok le margherite Le abbiamo messe L'albero da frutto pure Ragazzi vi do appuntamento Al prossimo episodio Come al solito Se questo video vi è piaciuto Cliccate un bel Mi piace Così capiamo Anche se Questa serie vi piace Se dobbiamo portarla avanti Come al solito Grazie di averci seguito Iscrivetevi Iscrivetevi Alla pagina facebook Deviamentola Brothers Trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti E come al solito Se per caso Il video non vi sia piaciuto Perché può sempre capitare Che non vi sia piaciuto Da parte della Tuffla Grazie ragazzi E al prossimo video Ciao Adio